a proposito di cose che hanno raggiunto una certa età no 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 beh potevo, sì l'avevo preparato ma scusami l'avevo preparato a Whiskey in a Jarrow che metteremo forse dopo ma cose veramente cinematografiche di grande qualità dobbiamo per forza parlare del nuovo film di Clint Eastwood che esce domani al cinema nel 14 di novembre del 2024 credo sia il 74esimo film anzi no, devo controllare però è sicuramente incredibile la longevità di questo attore sono 94 anni di vita della persona Clint Eastwood cioè gli anni tuoi più gli anni miei insieme non fanno Clint Eastwood ma neanche le due persone insieme con tutto il bene che voglio a me e a te non siamo Clint Eastwood però è una leggenda ormai oltre la sua persona preparando questa recensione ho letto i pochi le poche informazioni che venivano dal set ed erano tutto ma è gentilissimo ma è incredibile lavorare con lui quindi ormai è letteralmente lavorare con una leggenda una leggenda che nella parte recente della sua vita ha fatto dei film molto molto espliciti dal punto di vista anche della sua ma stai contando la filmografia vabbè espliciti della sua attitudine anche della sua 46 da regista sono 45 esattamente secondo IMDB forse hai letto qualcosa in avanti perché lui è anche produttore ma appunto è anche interesse e si vede che IMDB avrà perso qualche pezzo IMDB tipo il ah no questo è un videoclip hai ragione che videoclip ha fatto Clint Eastwood? Diana Crowell Why Should I Care? allora ecco pure questo conferma la volontà di Clint Eastwood anche agli anni che ha e qui continuo a citare Boris al voler non è una questione di energia ma fa quello che vuole lo può fare lo può fare in quanto Clint Eastwood ma anche in quanto bianco maschio uomo bianco maschio autorevole leggenda del però insomma è ci siamo capiti però è anche un po' schierato diciamo da un certo punto di vista è stato anche sindaco di una cittadina di Carmel by the Sea Carmel by the Sea credo che sia tipo non ladispoli però più fregene diciamo cioè un po' upper class no di più di fregene non so cosa c'è di più di fregene upper class il Cilceo non mi spingerei a paralleli anche perché non saprei proprio collocarlo sulla mappa fatto sta che con la sua persona con la sua aura con la sua leggenda no lo so ancora Capalbio è come il sindaco di Capalbio ecco scusate prego dicevamo i film di Clint Eastwood recentemente sono un marchio di fabbrica ma spesso con me non hanno molto risuonato devo dire che non l'ho seguito tantissimo anche perché appunto piuttosto prolifico anche nell'ultimo film sì Cry Macho del 2021 c'è stato un momento in cui non ha lavorato non per sua volontà e poi torneremo a parlarne però appunto American Sniper l'ha portato anche candidato agli Oscar Gran Torino Million Dollar Baby parliamone Million Dollar Baby era bellissimo Mystic River anche dai insomma quando tra l'altro lettere da Ivojima penso che mio padre abbia fatto un altarino solo per quel film Judy giurato numero 2 è un film che sulla carta poteva tranquillamente essere una noia mortale ma non lo è tra l'altro promozione inesistente di questo film io ho scoperto che Clint Eastwood aveva fatto un film per caso praticamente ecco iniziamo da questo innanzitutto io ho visto il trailer vi sconsiglio di vederlo ma vi consiglio caldamente di andare a vedere questo film di 114 minuti percepiti sulla mia pelle ho controllato l'orologio soltanto due volte che già non è poco però non è neanche tanto per te è poco ero coinvoltissimo dal racconto ma soprattutto il racconto è appunto diretto e coprodotto da Clint Eastwood e ne abbiamo parlato ma è praticamente è scritto da un praticamente inesistente sulla carta stampata esordiente no 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 non è un esordiente Jonathan Abrams è lo sceneggiatore di Escape Room Escape Plan un film con Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone ora controllo meglio ma soprattutto su IMDB è accreditato come sceneggiatore soltanto di questo film e di giurato numero due ha poi curato la traduzione la trasposizione al libro di una bella musical basta si confermo che Escape Plan è un film con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger film del 2013 il film giurato numero due è tiratissimo ha una scrittura veramente molto dritta lineare entra nella tua attenzione come un fuso è la storia pure qui io tenderei a non seguire neanche quello che c'è scritto su wikipedia che va un po' oltre fatto sta che è una storia sulla giustizia e sul dubbio mi sembra di aver capito è un processo visto dall'inizio alla fine quindi potrebbe tranquillamente essere da manuale però la cosa divertente è che noi siamo addosso al giurato numero due che nella fattispecie è interpretato da Nicholas Holt tra l'altro mio coetaneo amico di lunga data ma soprattutto l'ho conosciuto ho avuto modo quando è passato per Warm Bodies se tra l'altro è un bellissimo ragazzo Nicholas Holt è il bimbo di About a Boy sì ma non solo nel frattempo ha fatto altre cose ha fatto tantissime altre cose anche di grandissimo lustro ha interpretato anche Tolkien se è per questo e torna sarà inosferato scusate il prossimo film di Robert Eggers insieme a credo una palazzina intera torna a lavorare con Tony Colette che in About a Boy aveva interpretava la mamma di Nicholas Holt ma questo è relativamente interessante anche perché uno Colin Teesfoot non sapeva di questa connessione ma era molto colpito da Nicholas Holt come artista e a quanto leggo dai documenti di produzione la sceneggiatura è stata anche leggermente cambiata attraverso l'interpretazione ma soprattutto i suggerimenti di Holt stesso nella parte che secondo altre recensioni è più debole del film cioè nella seconda parte dove il cuore del processo il film è la storia di Justin Camp che padre di famiglia ex alcolista che presta servizio all'interno di una giuria è stato chiamato convocato come giurato in un caso di omicidio vengono tutti una vastissima platea non mi azzardo dire tutti una vastissima platea di americani e americane vengono convocati proprio per la loro imparzialità il sorteggio delle loro figure viene messo proprio al servizio della giustizia proprio perché devono essere completamente al di fuori del caso non avere relazioni addirittura nella parte iniziale ripeto il processo lo vediamo proprio nella sua costruzione nella sua sviluppo nella sua risoluzione dall'inizio alla fine quindi drittissimo vediamo anche determinati momenti anche burocratici il film però appunto ve lo sto vendendo nella maniera meno attraente possibile ma è incredibilmente coinvolgente la storia e le espressioni anche i turbamenti del giovane camp coinvolgono moltissimo la colonna sonora di di Mancina che tra l'altro ha una filmografia veramente eclettica il prossimo film sarà Oceania 2 porta dentro queste stanze è un film molto di luoghi molto di spazi è stato prodotto a cavallo e appunto tornavamo al discorso politico di Clint Eastwood anche un po' sfastidiato lui dal sciopero degli sceneggiatori e degli attori perché la composizione del cast a suo dire è stato fatto anche un po' con le persone che c'erano non carinissimo da dire non delicatissimo però il risultato è veramente veramente molto molto bello giurato numero 2 al cinema io ve lo consiglio caldissimamente c'è il come terzo nome del cartellone J.K. Simmons che nell'ultima settimana ho visto più di mio padre ma non per altro perché sia in giurato numero 2 sia in uno rosso in uno rosso fa babbo natale in giurato numero 2 fa uno dei giurati esattamente Harold ah questo qui ok io a questo qui ah hai detto questo qui a J.K. Simmons e io vedo le facce e poi capisco il professore di Whiplash J. Jonah J. Jameson della trilogia di lui insomma veramente ve lo consiglio fortissimamente proprio perché con Clint Eastwood non sempre vado d'accordo e sottolineo non sempre a Grazie a tutti.